Buonasera a tutti, un paio di minuti di pazienza, tra poco cominciamo. Abbiamo anche una bellissima scritta che dice alle 21 cominciamo. Eccoci qua, sono le 9, che ore sono? Le 21.01. Quindi togliamo la nostra scritta alle 21 cominciamo. Grazie a tutti. Oggi parliamo dal solito di social, ma parliamo anche di sport, onus e solidarietà. Io introduco solamente, sperando di azzeccare gli accenti da adesso in avanti, e poi se Fabio intervisterà Davide. Volentieri. Quindi, Fabio, ti vuoi presentare brevissimamente? Sì, io sono giornalista, sportivo, gran parte della mia vita l'ho passata a seguire il calcio da dentro le istituzioni, anzi dentro una società di calcio, una di Torino. Ho lavorato 16 anni nell'area comunicazione della Juventus, seguendo un pochino tutte le attività dell'area comunicazione, quindi dall'ufficio stampa, ai social, al sito internet, Ura Juventus, chi ne ha più ne metta. Negli ultimi anni, adesso sono quattro anni che sono fuori, sono freelance, siamo iniziati a specializzarmi anche sui social, e da un anno collaboro con Radio Bianconero. Quindi mancava la radio all'appello dei media, è entrato anche questo. Radio con cui collabora anche? Lino Garbellini. Bravissimo, così mi piace. Adesso torniamo seri, ricordo a tutti, noi siamo qua per voi, quindi noi abbiamo la nostra scaletta, delle nostre cose da dire, ma comunque siamo a disposizione. Quindi, qualsiasi domanda avete, come volete fare soprattutto a Davide, che è il protagonista della serata, fateceli. Il tema è i social, i filo conduttori sono i social, la comunicazione, ma chiaramente parleremo questa sera, allargheremo un po' il campo. Ecco la nostra Cora, che come al solito ci fa da redazione, ci segue in remoto. Un saluto. E selezionerà per noi le domande. Un saluto doveroso a Cora, grazie per tutto il lavoro che sta facendo. Davide, non la conosci, è la nostra redattrice del gruppo Close to You, Influencer e Social Club, il gruppo Facebook con cui siamo in contatto con tutte le persone che seguono i miei corsi, o qui in generale tutte le attività che facciamo, noi facciamo quasi ogni giorno dei post sulle novità riguardanti i social. E Cora fa parte del nostro gruppo e compare poco in video ultimamente, ma fa da redazione, diciamo così, nascosta, seleziona per noi le domande. Quindi direi, Fabio, io ho presentato te, io ho presentato voi, a questo punto vi lascio la parola. Infatti, diciamo che cambiando una sola vocale, passiamo dal social al sociale, parlando appunto dell'attività degli insuperabili, io Davide e noi ci conosciamo, sarà tre o quattro anni, giusto? Quattro anni tutti. La cosa divertente è che magari stiamo un mese o due senza sentirci e poi ogni volta che ti chiamo e ci sentiamo tu mi porti novità riguardo alla tua attività, ho aperto una nuova academy, avete iniziato una nuova attività e quindi voi non siete mai fermi. Però Davide, per chi non vi conosce, io ti chiedo di introdurre l'attività, chi sono gli insuperabili da quanto state operando e quindi ti lascio la parola. Grazie. Intanto è una buona abitudine il sentirci anche ogni mese, ogni mese e mezzo, perché si fa poi un riepilogo delle attività che vengono fatte e le condivido con te sempre con piacere. Chi sono gli insuperabili sono dei giocatori di calcio, nel 2012 insieme a Rezio e Adatti abbiamo fondato Insuperabili Onlus che crea delle scuole calcio per ragazzi con disabilità. Nel 2012 l'intento era proprio quello di creare un network di scuole calcio che potessero un po' fare da apripista per creare un nuovo movimento, che potesse mettere a disposizione di tutte le persone con disabilità, con qualsiasi tipologia di disabilità, la possibilità di giocare, di imparare il gioco del calcio. Siamo partiti da Torino 8 anni fa con 4 ragazzi, pian piano il numero è cresciuto, ad oggi siamo 17 scuole calcio su tutto il territorio nazionale con più di 650 atleti, quindi ragazzi che giocano con noi quotidianamente. Il progetto è molto cresciuto negli anni grazie anche all'intervento, al contributo di Reset Group e di Reset Academy, infatti il nome del progetto è Insuperabili Reset Academy, che ha consentito veramente una grande escalation di tutta l'attività fatta, aumentando tutta quella offerta di formazione didattica che cerchiamo di portare a tutti i nostri ragazzi. Pian piano oltre al calcio abbiamo iniziato ad avviare molte attività che vedono sempre i nostri ragazzi al centro, quindi diciamo che tutto deve ruotare un po' attorno ai nostri ragazzi. Abbiamo aperto uno shop, quindi un negozio di abbigliamento, all'interno del quale si vende anche del nostro merchandising, quanto siamo una vera e propria squadra di calcio, quindi come tutte le migliori squadre di calcio che si rispettano devono avere un proprio merchandising. La particolarità dello shop è che all'interno vede impiegati i nostri atleti, così come altre attività. È nato da due anni il Lab, che è un nuovo spazio che accoglie i nostri ragazzi, gli permette di svolgere delle attività diverse dal calcio, ma sempre che gli permettono di acquisire delle competenze poi utili anche all'interno dello stesso. E pian piano tutte le attività che effettivamente ci vengono in mente. Un po' ci vengono in mente, un po' traiamo spunto da altri e cerchiamo di adattarle al meglio. Scusa, abbiamo una prima domanda. Ci chiedono se siete tutti volontari. Io nel frattempo cercavo del materiale su di voi, ho fatto vedere la pagina Facebook, magari adesso cerco anche un video. Ci chiedono se siete tutti volontari. Allora, siamo... no, in realtà no. Siamo... nessuno è volontario, o meglio, abbiamo in tutta Italia una decina di volontari. Tutti gli altri siamo in totale 250 collaboratori. Di questi 10 sono volontari. Questo non perché siamo contro il volontariato, anzi. Sappiamo che è un gran motore per l'Italia, ma quando abbiamo pensato di creare questa attività ci siamo dati un obiettivo molto specifico. Quello di non improvvisarci e assolutamente non lasciare nulla al caso. Dovevamo fare un qualcosa di molto preciso. Insegnare. E quindi quando si parla di insegnamento non si può... non si può non essere preparati per farlo. Soprattutto ad una fascia di ragazzi che magari fino allora non aveva avuto le stesse possibilità che avevano gli altri, che avevano gli altri coetanei. Quindi quando devi insegnare un qualcosa e lo fai magari a chi ha qualche difficoltà in più di altri, devi essere molto preparato. Quindi uno dei primi... uno dei primi obiettivi che ci eravamo dati era quello di professionalizzare al massimo quella che era una nuova professione. ossia quelli che dovevano essere dei coach per atleti con disabilità. E quindi dovevamo un po' assecondare tutte le loro... tutte le loro richieste, tutte le loro attività. Da lì abbiamo iniziato a creare un primo team di lavoro costituito da professionisti. Quindi il coach di calcio, lo psicologo e l'educatore. Pian piano abbiamo creato tutta una struttura proprio come una vera e propria società sportiva. A partire da un management, quindi da chi ha le idee, a chi si occupa di tutta l'attività di reperimento fondi. Perché poi è un'attività simile, volendo basarla proprio sul professionismo, ovviamente ha dei costi che devono essere coperti durante l'anno. Quindi una parte della società si occupa proprio di questo. In tutto questo è stato molto importante, come vi dicevo prima, l'apporto dato da Reset Group, che ha preso proprio in carico l'attività di insuperabili. E pian piano abbiamo comunque creato un nostro metodo didattico e di lavoro, che negli anni ci sta togliendo grosse soddisfazioni. Io ci tenevo anche a sottolineare a questo aspetto, Davide, che tu hai citato giustamente. Reset Group, per far capire la serietà di chi c'è alle spalle degli insuperabili, Reset Group è stato fondato niente meno che da Marcello Lippi, che è l'ex allenatore della Juventus e l'allenatore campione del mondo nel 2006. Quindi con il figlio Davide, con Carlo Diana, quindi tutti i professionisti di primissimo livello del mondo del calcio, che questo ambiente lo conoscono molto bene. Diciamo che abbiamo, oltre che la fortuna, l'onore anche di avere due testimonial nazionali importantissimi. Il primo è Giorgio Chiellini, che è stato il primo a credere in questo progetto, dalla prima volta che gliel'abbiamo presentata. E poi il mister Marcello Lippi, che è un po' Giorgio è il capitano simbolico di questa squadra di testimonial che negli anni è diventata corposa, perché ad oggi sono più di 40 i calciatori e calciatrici di Serie A che si sono avvicinati al nostro mondo, ma più che avvicinati si sono innamorati. Abbiamo veramente la fortuna di sentirli spesso, quasi settimanalmente, e non fanno mai mancare l'apporto verso le nostre attività e verso tutti i nostri ragazzi. Quindi avere poi due personaggi di spicco come loro è un qualcosa di importante, che è un po' un sigillo di garanzia dell'attività che andiamo a svolgere. Davide, sono contento che anche stasera abbiamo tante interazioni, tante domande, un sacco di gente ti fa i complimenti, dice bravissimi. E abbiamo un'altra domanda di Sevi che ci chiede quali caratteristiche deve avere un vostro allenatore. Questa è una domanda particolare. E chiede se fate un corso specifico, perché lei sta studiando scienze motorie, credo che in questo caso abbia un interesse specifico a entrare in contatto con realtà come la vostra, però a parte la domanda personale credo che sia un tema interessante. Assolutamente, diciamo che negli ultimi tre anni la FIGC, o meglio, nell'ultimo anno la FIGC, prima quarta categoria, quindi chi ha organizzato il campionato di quarta categoria, ha dato un'impennata elevatissima a tutto il movimento calcio e disabilità, rendendolo veramente al pari del calcio per i normodotati e invitando, proprio coinvolgendo tutte le società professionistiche a creare al proprio interno un settore per i ragazzi disabili. Nell'ultimo anno tutto il progetto è stato preso in gestione dalla FIGC e tutto questo percorso fa capire quanto sia diventato veramente importante il movimento. Un movimento si deve basare su poi chi va a gestire, quindi chi va ad insegnare, ad allenare calcio ai ragazzi. Gli enti di promozione sportiva negli anni hanno creato diversi corsi per gli allenatori di calcio, sicuramente tantissimo a livello ufficiale verrà fatto dalla FIGC nei prossimi anni. Noi come Insuperabile abbiamo brevettato un nostro metodo di insegnamento e una nostra equip ideale di lavoro che è costituita da coach e tendenzialmente tutte persone che escono da scienze motorie, quindi la domanda fatta dalla ragazza di prima che sta studiando scienze motorie, noi abbiamo la fortuna di collaborare da anni con l'università, siamo sede di tirocinio in diverse sedi italiane e per noi ha veramente un ruolo importantissimo chi esce da quella facoltà al pari di psicologi ed educatori che tutti insieme costituiscono un'equip di lavoro. Ovviamente all'interno del nostro organico ci sono anche dei coach qualificati, quindi dotati di patentino UEFA, si arriverà prima o poi ad avere la vera e propria qualifica rilasciata dalla FIGC di tecnico di calcio per atleti disabili. Per come sta lavorando bene la FIGC in quest'ambito credo che veramente i prossimi anni saranno, non dico in discesa, ma sicuramente ricchi di soddisfazioni da questo punto di vista. Un peccato Davide che proprio adesso che era in rampa di lancio il progetto con la FIGC è arrivato con questo stop che proprio non ti voleva. Sì, diciamo che è un peccato ovviamente in generale il periodo. Nello specifico noi avevamo, la FIGC l'anno scorso aveva fatto un campionato, l'ultimo anno del campionato di quarta categoria, che è stato, lo dico con un po' di orgoglio, ma più che altro perché magari ci sono dei nostri ragazzi che ci ascoltano, quindi a loro farà sicuramente piacere. È stato vinto dagli insuperabili a Coverciano, quindi siamo un po' gli ex campioni d'Italia a questo punto in carica. Ed è stato un campionato di una durata annuale, da ottobre è terminato poi a giugno. Quest'anno con l'avvento della FIGC i primi mesi, quindi da ottobre a dicembre, sono stati investiti proprio dagli organizzatori per delineare tutte le linee guida e poi ci hanno fatto iniziare la stagione a gennaio. Stagione che era iniziata molto molto bene con i test match e con le prime giornate di campionato. Siamo arrivati poi al 22 di febbraio, qualcosa di simile, il 16 di febbraio. Forse avevamo fatto l'ultima giornata e poi è arrivato lo stop. Stop che è arrivato veramente con tantissima prontezza di riflessi da parte della FIGC, perché sono stati i primi a interrompere tutte le attività, a partire dalle gare ufficiali e proseguendo subito con gli allenamenti anche. Dal mio punto di vista questa è stata veramente una mossa fenomenale perché ha veramente evitato tantissimi contagi per ragazzi che comunque potrebbero essere veramente sono soggetti più a rischio. Quindi questa prontezza di riflessi della FIGC è stata veramente un po' l'emblema di quanto sta lavorando comunque bene in questo periodo. E così Davide, entriamo nel quello che era poi il tema centrale della nostra chiacchierata visto Close to You, il nostro gruppo in cui si parla di digital, si parla di social, l'attività che prima era sul campo da voi quotidianamente, sul campo si è trasferito causa di forza maggiore diciamo così sui social e li state sfruttando molto bene. Sì, poi noi abbiamo due fortune, una è quella che non ci mancano le idee, quindi di quello ne vado orgoglioso perché abbiamo un team di lavoro che da quel punto di vista è veramente fenomenale. L'altra fortuna è l'agenzia che segue tutta la nostra parte area comunicazione social che è Sportsuite, ai quali vanno veramente tantissimi complimenti perché tutte quelle che possono essere delle belle idee poi bisogna essere in grado di riuscire a realizzarle e soprattutto realizzarle nel miglior modo possibile, altrimenti poi rischi di avere delle bellissime idee che rimangono lì ferme. Invece di avere dei partner, dei collaboratori in gamma che fa proprio sì che le idee poi diventino realtà. Da subito abbiamo capito che il periodo sarebbe stato veramente lungo perché con una chiusura dell'attività dal 23 di febbraio avevamo capito che i prossimi 5 o 6 mesi siano stati di ferma e quindi dovevamo un po' inventarci qualcosa. Il primo passaggio è stato quello di iniziare a metterci da subito comunicazione con i nostri ragazzi tramite i cellulari perché dovevamo fargli capire una cosa fondamentale. Il periodo sarebbe stato lungo ma comunque potevamo continuare a sentirci, potevamo soprattutto sentirci non solo individualmente ma anche di gruppo e quindi ricreare un po' quell'atmosfera di spogliatoio che è importante per gli insuperabili. Dovevamo semplicemente cambiare il mezzo e quindi il mezzo diventava il cellulare. Dopo aver insegnato ai nostri ragazzi queste nuove possibilità di comunicazione, il passaggio successivo è stato quello di trasformare la nostra attività di campo in attività che doveva essere fatta a casa. Quindi abbiamo iniziato a far allenare i nostri ragazzi prima individualmente, quindi inviando proprio delle sessioni di training calcistico che i ragazzi dovevano eseguire nelle loro case. Dopo questo primo momento che è stato veramente recepito molto bene dai nostri ragazzi perché giornalmente ci arrivavano centinaia di video di allenamenti fatti in casa dai nostri ragazzi anche perché fantasia ne hanno tantissima e quindi utilizzavano dalle bottiglie alle ciabatte che diventavano coni o cinesini per svolgere le esercitazioni. E poi soprattutto la voglia, quella non gli manca mai. Davide scusa, avete trovato… Non vi sento più. Mi senti? Non so se voi mi sentite. Io ti sento benissimo. Io ti sento. Tu mi senti? Io sì. Io ho dei problemi di audio. Tu parli o mi senti? Io sì, sento entrambi. Davide tu mi senti? Davide, se vuoi fare come prima, uscire e rientrare per sistemare l'audio non c'è problema. Sconnettermi e riconnettermi perché non sento proprio… Nessun problema. Io ti sentivo entrambi, va bene. Ah, lui però non sentiva noi, era quello il problema. Quando facevano la prova. Bene, no, sono contento che anche stasera abbiamo tante persone che interagiscono, tante persone interessate, anche alcune domande. Volevo chiedere se loro quando sono passati alla modalità, diciamo così, digitale, gioco forza per fare interagire i ragazzi, tutti avevano una connessione, tutti avevano un computer, hanno trovato delle difficoltà, è stato abbastanza semplice passare a questo aspetto. Diciamo che, volendo fare un paragone con quello che sta succedendo a milioni di studenti italiani, probabilmente hanno anche anticipato i tempi loro. Io ci sono di nuovo, vi risento. Ci senti Davide? Sì, 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 vi sento. Stavo dicendo che alla fine avete anticipato anche il Ministero dell'Istruzione, perché avete iniziato a fare delle cose che poi, nel giro di pochi giorni, hanno cominciato a fare anche gli studenti e le scuole. Io chiedevo, Davide, chiedevo se avete trovato delle difficoltà o le famiglie e i ragazzi erano pronti a passare al digitale, avevano già un computer, avevano già sperimentato questa modalità di comunicazione in remoto. Perché in altre dirette, quando parlavamo anche con le aziende dello smart working, in Italia non è dato così per scontato e un buon 10-15% dei dipendenti ha avuto un po' di problemi a passare, ma problemi dal punto di vista proprio reperire la connessione a internet, reperire un computer. Allora, difficoltà ce ne sono state e ce ne sono tuttora, cioè sono passate sei settimane, ma comunque qualche difficoltà tecnologica, quella comunque all'ordine del giorno. Difficoltà dettate un po' dal fatto che prima tutta questa tecnologia non veniva utilizzata. Quindi tendenzialmente anche molti dei nostri ragazzi si sono trovati un po' impreparati anche senza strumenti, anche senza strumenti. Questo è un po' complicato. Un po' di problemi di connessione ci sono, un problema un po' complesso è ogni tanto andare ad intercalare tutti quei momenti in cui alcune attività venivano svolte anche dalle scuole o comunque da altri enti che seguono i nostri ragazzi. Quindi lì bisognerebbe coordinarsi. Cioè ti trovi a gestire tu delle attività che erano in teoria di altri o dei momenti, degli spazi che erano di altre realtà? No, 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 no. Ah, ti piacerebbe coordinarti meglio con queste realtà? Magari ipotizzabile un miglior coordinamento e quindi magari iniziare a capire che in determinati orari si svolgono determinate attività e in altri se ne svolgono delle altre. Altrimenti poi si rischia che magari uno programma delle attività, però gli altri ragazzi ne fanno di altre nello stesso punto. Ah, ho capito. Non c'è questa resa al 100% a livello di impegno. Ma è normale, non è assolutamente un problema, anche perché poi la cosa più importante è che in questo periodo comunque vengano svolte delle attività. Che vengano svolte delle attività con insuperabili, con pinco, con pallo non importa. L'obiettivo maggiore è quello un po' di andare a creare una routine per i ragazzi e quindi dargli la possibilità veramente di poter svolgere delle attività. Perfetto. Prego Fabio, scusami, sì, scusate. Giustamente la situazione in questo momento è particolare, lo sappiamo tutti. Diventa difficile far spiegare ai ragazzi quello che sta succedendo, quindi immagino che per voi è stato doppiamente difficile far accettare ai ragazzi questo tipo di situazione, il non poter andare al campo, il dover fare da casa. Assolutamente, c'è da dire che i nostri ragazzi hanno retto veramente bene, stanno reggendo molto bene e da un lato sembrano veramente più maturi di quanto potessimo aspettarci prima a livello di idee e dimostrano tantissima voglia ed entusiasmo del tornare ovviamente in campo, però hanno capito tendenzialmente la situazione e purtroppo finché c'è il virus in circolo a determinate attività non si possono svolgere. Sono contenti di aver avuto e di poter svolgere delle attività alternative, il difficile è un po' quello di riuscire a calibrarle alla perfezione un po' per tutti, perché la nostra caratteristica è quella di lavorare con tutte le fasce di disabilità, quindi dobbiamo riuscire un po' a tarare e quindi a ricalibrare le attività che svolgiamo per diversi funzionamenti. Infatti, ormai è arrivata se non sbaglio anche l'ufficializzazione, i campionati sono fermi, per quanto riguarda l'attività sul campo presumo che non se ne parlerà prima dell'ottubre. Prima di settembre, ottobre non se ne parla e poi dovremo capire come poter tornare in campo, perché comunque quello ad oggi purtroppo non è un qualcosa di scontato. Sappiamo che torneremo in campo, però ad oggi il come non si sa, è un punto di domanda, quindi anche fare delle ipotesi può aver senso, ma forse neanche fino a un certo punto. Quindi siamo un po' in attesa, c'è ottima fiducia verso chi dovrà coordinare il tutto, quindi partire da Valentina Battistina e tutto il suo staff. Quindi sappiamo che loro daranno le linee guida migliori che potremmo seguire. Quello che stiamo ipotizzando è che molte delle attività che stiamo svolgendo ad oggi a remoto, quindi in remoto, quindi con attività online, possano diventare veramente parte integrante della nostra attività quotidiana. Quindi io mi immagino in un futuro di insuperabili che i tre allenamenti alla settimana possano tranquillamente diventare quattro, dove uno potrebbe essere un allenamento fatto su una classe di Zoom, ad esempio, per la preparazione fisica, o una classe didattica con l'insegnamento di lingue straniere, con vocaboli inerenti al calcio. Quindi tutte quelle attività che stiamo svolgendo adesso, molto probabilmente diventeranno veramente parte integrante di quello che è un nostro metodo di insegnamento. Davide, mentre parlavi, stavamo mandando in sovrimpressione alcuni dei video realizzati in questo periodo, soprattutto alla Virtual Cup, che mi sembra una bella trovata, una delle tantissime idee che avete tirato fuori, se vuoi illustrarci. La Virtual Cup nasce dall'Insuper Cup. Noi abbiamo 17 sedi con tante categorie. La particolarità è che non sempre, ovviamente, abbiamo la possibilità di giocare insieme. Quindi da due anni svolgiamo l'Insuper Cup, che è questo torneo interno, dove in tre tappe tutte le nostre sedi si ritrovano e giocano insieme e contro. A marzo e aprile avremmo dovuto svolgere due appuntamenti dell'Insuper Cup, uno a Roma e uno a Genova. Purtroppo con la sospensione, il primo pensiero che abbiamo avuto è dobbiamo cercare di ricreare la nostra stagione. Quindi la nostra stagione è costituita dagli allenamenti, e quindi i primi erano gli allenamenti individuali, poi gli allenamenti di gruppo, però poi le squadre di calcio hanno bisogno di giocare, di disputare delle partite, perché i mister hanno bisogno di un po' di adrenalina nel capire chi devono schierare in campo da titolari, e i giocatori hanno bisogno della sfida, perché altrimenti mancherebbe qualcosa. Quindi abbiamo ricreato la nostra Insuper Cup in maniera virtuale. In che maniera? Facendo sfidare giornalmente tutte le nostre squadre. Quindi il lunedì è il turno dei primi calci, il martedì è il turno dei beretti, il mercoledì dei giovanissimi, e quindi ogni settimana per due mesi e mezzo, che sarà appunto la durata della virtual cup, si svolgerà questo vero e proprio torneo, dove Torino gioca contro Siracusa, Milano contro Genova, Rovetta contro Floridia. I mister schierano una formazione titolare e ulteriori eventuali riserve, i ragazzi dovranno svolgere a casa degli esercizi e ognuno di questi avrà un punteggio. La somma di questi punteggi darà origine a dei gol e quindi poi alla fine la partita finirà 0-0, 1-1, 5-6, 7-6 e si svolge un vero e proprio campionato. Giornalmente pubblichiamo su Instagram tutti i risultati delle gare. La parte più social e più divertente della virtual cup si svolge la domenica, quando sulle stories vengono presentati, viene presentata la classifica aggiornata, riprendendo la musichetta di novantesimo minuto, anche proprio per dare un po' un contesto. Mentre nei feed si ricrea una sorta di gioco che racconta il match clou della settimana, e quindi parte con l'insert coin, quindi inserisco la monetina e posso andare ad ammirare i nostri giocatori che hanno svolto gli esercizi e pian piano si vede il punteggio che sale per capire quanti gol hanno fatto o subito. Alla fine poi c'è appunto il vincitore di giornata. In tutta questa attività sono fondamentali tutti i nostri testimonial, perché ognuno di loro è associato ad una nostra sede, quindi loro che cosa fanno? Vanno a incoraggiare e a fare un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi prima del match. Quindi i ragazzi vedono tutti i loro beniamini che gli fanno l'in bocca al lupo per la partita contro Torino oppure contro Roma. Quindi sono tutti quei momenti di interazione che veramente diventano fondamentali, perché cambiano la tipologia proprio di attività che puoi andare a svolgere con i ragazzi, intrattenendoli molto di più. E tra l'altro si sono dimostrati anche degli ottimi insegnanti i vostri testimonial. L'abbiamo visto nelle vostre pagine Facebook, sul vostro canale, che avete pubblicato più di un video di proprio dei calciatori di serie A, calciatrici di serie A, che hanno dato i loro consigli proprio in maniera pratica ai ragazzi. Come si svolge un determinato esercizio? Il testimonial per Insuperabili è molto importante, cioè non è semplicemente una figurina che possiamo annoverare, ma veramente la possiamo considerare parte fondamentale del nostro organigramma, partendo dal fatto che vengono a trovarci in campo e giocano con i nostri ragazzi, fino a conoscere veramente tutti i nomi dei nostri ragazzi o delle loro storie. Loro vengono a trovarci in campo ovviamente nell'ultima parte della stagione, perché è la parte dove sicuramente, molto probabilmente, le condizioni climatiche sono favorevoli, quindi in questa stagione purtroppo i nostri ragazzi non hanno potuto svolgere e non potranno svolgere gli allenamenti insieme ai loro campioni. Però abbiamo chiesto a tutti quanti di poter inviare una loro seduta di allenamento, visto che anche loro si stanno allenando a casa, cosicché i nostri ragazzi avrebbero potuto svolgere l'allenamento proprio fatto da un giocatore professionista. Questo è stato per loro di grande stimolo, anche perché avere l'occasione di, anche se virtualmente, allenarsi insieme al tuo campione, insieme al tuo beniamino, è veramente un qualcosa di importante. Sì, anche perché più che mai in questo momento sono proprio tutti accumulati, da questo punto di vista, tutti fermi, tutti a casa, tutti costretti. Diciamo che ha veramente, sembra paradossale, ma ha avvicinato veramente i modi di fare di tantissime persone che magari nella vita quotidiana sembrano un po' più distanti, e invece tutto questo in alcuni momenti li ha un po' ravvicinati, uniti. Lino, ti ho visto che sei apparso tra noi così. In senso che abbiamo fatto vedere un po' di video, poi i video sono finiti, visto che il canale YouTube sceglieva altri. Volevo dire a te, Davide, sono sempre stato curioso delle persone come te che hanno un gran coraggio, si mettono in gioco, lavorano in questo settore, secondo me, che non è per nulla facile. Come hai detto tu, bisogna essere molto competenti. Cos'è che ti ha spinto all'inizio a lavorare in questo settore? Cosa mi ha spinto? È stato un po' il tutto nasce dal caso, perché non arrivo dall'ambito della disabilità, non arrivo dall'ambito del sociale. Io e Ezio, che poi abbiamo fondato i superabili, insieme a Battila, otto anni fa veniamo più da un ambito economico, quindi più di gestione di società sportive. Cioè ti ci sei un po' ritrovato, ma poi hai capito che era il tuo ambito? Assolutamente sì, è stato un po' un caso, perché noi siamo partiti, facevamo tutt'altro, e poi la cognata, Micaela, la cognata di Attila, una ragazza con sindrome di Down, patita di calcio, tifosissima di Milan, aveva semplicemente un desiderio, quello di poter giocare a calcio. Allora, casualmente, noi le chiedemmo, Michi, ma vuoi che ti cerchiamo una squadra nella quale poter giocare? Come darle torto anche, verrebbe da dire. Assolutamente. Ma quando le facciamo quella domanda, noi eravamo convinti di cercare su internet, trovare una squadra, poterla accompagnare, iscrivere. E invece non c'era niente di tutto ciò. Quindi avevamo capito che c'era un'esigenza, la voglia era quella di creare qualcosa di positivo per il calcio, che potesse essere positivo a quel punto per una fascia che non aveva questa possibilità, che era tutta la fascia della disabilità, ma che col tempo potesse veramente diventare un po' un ingranaggio fondamentale di tutto il movimento calcio. E alla fine poi il fatto che la FGC abbia preso in gestione e quindi abbia proprio fatto suo tutto questo movimento, è proprio un po' il risultato di quella domanda che ci siamo fatti otto anni fa. Stiamo facendo del bene per i ragazzi disabili? Assolutamente sì, ma possiamo fare qualcosa in più. Possiamo diventare veramente un punto di riferimento, un ingranaggio importante per tutto il mondo calcio. E di quello ne eravamo straconvinti. E quanto ti è stato utile viceversa le conoscenze che avevi di economia, di management, diciamo, per portare avanti questo progetto? Tantissime, tantissime, perché poi ad oggi il mio ruolo è passato da negli anni, i primi anni, e andavo in campo direttamente a allenare i ragazzi, ma soprattutto poi dovevamo creare una vera e propria società che si basa su tante componenti, dalla parte amministrativa, che è veramente una parte fondamentale per le società sportive, per qualsiasi tipologia di azienda, che è gestita egregiamente da Ezio negli anni, da tutti i nostri colleghi. Ma poi dovevamo un po' creare tutto un modello che potesse essere sostenibile. Quindi da tutta la parte di riferimento fondi alla parte di bandi. Ok, in questo senso, quanto è stata importante la comunicazione? Avete da subito puntato sui social? A parte gli ultimi progetti che ci ha spiegato Fabio. La comunicazione è fondamentale, ne siamo più che consapevoli. Noi sappiamo che se siamo arrivati, ad oggi non abbiamo veramente fatto niente rispetto a quello che potremmo fare. Io dico sempre ai miei colleghi che siamo al 30% di quello che è il nostro sviluppo. Ad oggi però siamo arrivati a questo 30% perché abbiamo delle ottime competenze nel settore specifico, ma soprattutto abbiamo sviluppato molto bene tutta una parte di comunicazione. Perché poi tu devi far sapere quello che fai e come lo fai. Quanti anni sono che lavorate con Sportsuite? Hai detto... Dall'inizio. Cioè come parte integrante, la comunicazione anche sul digital è sempre stata parte integrante del vostro progetto? Assolutamente. Sempre stata parte integrante e ad oggi è a maggior ragione una parte fondamentale che poi si sviluppa un po' un binario parallelo tra tutta una comunicazione sociale e tutta una parte di ufficio stampa che diventa veramente fondamentale per migliorare quello che è un po' il tuo essere. Perfetto. Fabio, vuoi... Davide ha citato più volte Attila. Vogliamo giusto introdurre chi è? Perché siamo parlando di... Fabio non lo vedo più. Non so voi. Io vedo tutti. Senti almeno. Ottimo. Ok. Visto che ha citato Attila, Attila è Attila Malfatti che è un vero professionista dell'ambito sportivo. Ovviamente gli ho detto il lavoro, loro lo conoscono bene. Qui lì non possiamo fare un assist al nostro amico Orazio Spoto perché è un ex Primavera della Roma, poi ha avuto un passato... Parliamo anche di altre squadre. Avevamo detto che parlavamo anche di lei. Sto scherzando. ho visto che in sovrimpressione passavano i nomi delle nostre testimoni. All'una delle prime nominata che mi è comparsa sopra era Elisa Bartoli che è il capitano della Roma. Che salutiamo a questo punto volentieri. Assolutamente. Siamo veramente in ambito molto fortunati perché riusciamo a coprire tantissime squadre di calcio ma soprattutto tantissimi calciatori a partire da Gomez e Petagna che nei primi anni hanno veramente intanto hanno creato un evento benefico per Insuperabili qualche anno fa che era stato un primo nostro evento di gala al quale abbiamo partecipato dove c'era un'atmosfera magica perché avevamo avuto l'occasione di partecipare insieme a dodici nostri ragazzi. Quindi siamo stati un po' catapultati nelle serate più mondane e quello è stato fantastico. Papu ha realizzato insieme agli autogol Baila come il Papu che è stato devoluto e la raccolta fondi è stata devoluta agli insuperabili. Tutti i giocatori del Toro da De Silvestri, Baselli, Izzo io ricordo ancora una delle scene più divertenti che coinvolse i giocatori del Toro una volta vennero a svolgere un allenamento un allenamento in campo con i nostri ragazzi e al termine si fermarono a fare gli autografi sulle maglie e sui pezzi di carta. Un nostro ragazzo, Nicolas, a un certo punto prese lui un foglio di carta fece la sua firma e la diede a Baselli e ha detto in realtà sono io il calciatore quindi tieni il mio autografo e la scena è stata veramente memorabile perché poi andarono insieme a firmare autografi a tutti gli altri. quindi Ranocchia veramente sono proprio tanti da quel punto di vista siamo veramente privilegiati ad avere un così bel rapporto con tutti loro e soprattutto avere così tanti che ci seguono Spinazzoli Invece dal tuo punto di vista personale tu li utilizzi social? Qual è il tuo social preferito? Fai comunicazione anche per quanto riguarda gli insuperabili anche sui tuoi canali social? Sì, 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 quello sì poi fino a un po' di tempo fa ancora oggi qualcosina metto anche ancora su quelli degli insuperabili quindi fino a un po' di tempo fa li gestivo anche un po' di più adesso ho iniziato a gestire un po' di più il mio mi piace prendere spunto dai social network ultimamente Instagram è quello che... trovi spunto per le attività da fare con i ragazzi trovo spunto per le attività anche perché molto spesso non bisogna neanche inventarsi niente di nuovo bisogna saper copiare ma adattando al proprio contesto questo è un grande classico dell'era digit prendere spunto poi ognuno dice ah ho inventato, ho fatto in realtà molto spesso noi inventiamo poco ma siamo bravi ad adattare delle idee di altre che poi magari sembrano nuove perché contestualizzate al nostro ambito degli spunti arrivano anche dai ragazzi? gli spunti arrivano assolutamente anche dai ragazzi loro sono un po' un traino un grande motore per le nostre attività ce ne siamo accorti da subito dai primi anni perché adesso sembra una fase un po' banale quasi scontata tu andavi in campo e effettivamente tu davi a loro tantissimo ma loro ti ridavano in una maniera paritaria molto spesso anche superiore ma anche da un punto di vista di idee infatti dopo adesso sto andando a memoria ma forse era dal terzo anno avevamo iniziato a pensare che i ragazzi potessero col tempo poter diventare parte integrante del nostro organigramma e da lì anche nasce l'idea del creare l'insuperabile shop per inserire i nostri ragazzi all'interno proprio come collaboratori per lavorare e negli anni abbiamo avviato diversi progetti di inserimenti lavorativi con i nostri ragazzi adesso alcuni di loro lavorano e stanno facendo degli inserimenti con noi in ufficio e quindi proprio dove si svolge si va un po' a creare tutta la parte di insuperabili questo per far capire veramente che importanza che importanza hanno e non nego che molti spunti e molte idee arrivano arrivano da loro arrivano dalle loro passioni arrivano dalle loro esigenze anche perché siamo lì per loro considerato questo periodo riguardo il coronavirus e il lockdown come vedi il futuro che difficoltà potresti avere poi a ripartire sull'immediato su un breve periodo sul breve secondo me un po' di di difficoltà da un punto di vista economico sicuramente come tutte le piccole e medie imprese sicuramente lo avremmo noi non siamo un'impresa però siamo una piccola società che però in questo momento qualche perdita da un punto di vista economico la sta subendo l'obiettivo primario che abbiamo sarà quello di poter ripartire con lo stesso numero di sedi e con lo stesso numero di ragazzi noi per il prossimo anno avevamo diversi nuovi progetti tra cui l'apertura di tre nuove sedi che ad oggi purtroppo sono in stand by per il momento anche perché vedo complicato in questo periodo poter inaugurare delle nuove sedi magari il tutto dovrà semplicemente posticiparsi di qualche mese e dovevamo inaugurare in questo periodo la tv di insuperabili che dava la possibilità a alcuni nostri ragazzi di fare un master attraverso tv vera via cavo o web in collaborazione con Calcio News 24 noi in questo periodo avremmo dovuto svolgere questo master al quale avrebbero partecipato 20 dei nostri ragazzi e poi uscivano sei professioni quindi dal conduttore a chi doveva fare le riprese la regia al cameraman in questo momento è tutto fermo quindi abbiamo posticipato di qualche mese questo master e poi inaugureremo la nostra televisione qualche difficoltà ci sarà da questo punto di vista quindi veramente l'obiettivo sarà quello di poter ripartire tutti insieme ad oggi è forse l'unico grosso intento che dobbiamo avere quello di cercare di non lasciare nessuno veramente indietro di tutti quei ragazzi che sono stati con noi fino ad oggi e sono convinto che riusciremo a farlo tutti i nuovi progetti saranno un po' in stand by però sono convinto che è tutta una parte tutta una parte di lavoro che stiamo facendo in questo periodo di quasi ferma ma invece in realtà stiamo veramente dietro le quinte lavorando lavorando molto per farci per farci trovare pronti anche perché non sappiamo come ripartiremo ma sicuramente non ci sono mai mancate le idee quindi sicuramente qualcosa ci faremo venire in mente per migliorare comunque un'offerta che fino ad oggi stiamo dando la situazione adesso tutti si sta parlando tantissimo del calcio di serie A come ripartirà però ci sono tutte le realtà semiprofessionistiche soprattutto quelle dilettanti che dovranno capire come dovranno ripartire quindi credo che la difficoltà maggiore sia costituita proprio da da tutto il movimento al di sotto della serie A Davide lo sa benissimo cosa vuol dire lavorare nella società dilettantistica tu avevi altre domande Fabio? no io sono direi che più o meno possiamo chiudere ringraziamo Davide Davide vuoi aggiungere qualcosa? c'è un modo per sostenervi seguirvi oltre sulla pagina Facebook? in questo in questo periodo io direi che la cosa migliore è quello di seguire le nostre pagine social perché sono comunque molto molto attive partirà un nuovo progetto il 4 maggio che sulla carta è un progetto veramente importante e sono sicuro che poi riusciremo a come sempre rendere concrete tutte quelle che sono tutte quelle che sono le idee da maggio ripartiremo anche con tutta una parte di fundraising e partiremo con il progetto in superfood quindi vi invito veramente a rimanere connessi ai nostri social perché ci sono veramente tante tante novità creeremo molti molti cibi in versione insuperabili che tutti quanti potranno potranno degustare a casa loro quindi questa è una novità sulla quale stiamo stiamo lavorando poi troverete tutte le informazioni sul nostro sito internet che è www.insuperabili.eu bene bene questa per noi perché è stata veramente una bella una bella serata grazie a te grazie a te grazie noi ricordiamo noi ricordiamo il nostro gruppo facebook close to you influencer e social club l'accesso è assolutamente accessibile a tutti verrà poi approvata l'iscrizione questa per le nostre dirette diciamo così per il live club è la settimana dello sport giovedì alle 21 abbiamo un'altra diretta abbiamo mariana zenatta che si occupa di fa la manager in ambito sportivo e si occupa di coaching quindi vi aspettiamo tutti giovedì alle 21 ringrazio chi ci ha seguito ringraziamo corre in regia fabio ed il nuovo davide ciao una buona serata a tutti ciao ciao ciao